Vicky Varga romantica al lago accavalla le gambe e manda il web totalmente in delirio il pantaloncino va su la modella ungherese fa impazzire il web sta facendo impazzire come sempre i suoi tantissimi follower con la sua incantevole bellezza e il suo corpo da favola stiamo parlando della bellissima Vicky Varga pochi minuti fa sul suo profilo Instagram la splendida modella ungherese ha postato una serie di scatti che la ritraggono sul lago di Como in uno degli scatti si mostra insieme al compagno Graziano Pellè i due si stanno concedendo un po' di relax e romanticismo più bella e sensuale che mai Vicky Varga sta lasciando i suoi tantissimi seguaci senza fiato Lady Pellè indossa un pantaloncino cortissimo che ha stento la copre mentre accavalla le gambe il pantaloncino sale e fa impazzire tutti l'occhio dei fan è caduto proprio lì non si intravede praticamente nulla ma il dettaglio piccante ha comunque mandato il web totalmente in delirio Ancora una volta Vicky Varga sta catturando piacevolmente l'attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano D'altronde con la sua incredibile bellezza e la sua assurda sensualità è impossibile che passi inosservata agli occhi dei suoi fan Lady Pellè ama provocare i suoi seguaci su Instagram con foto e pose super piccanti che esaltano la sua bellezza e le sue curve pazzesche Inutile dire che ogni volta fa totalmente perdere la testa ai suoi follower la modella è bella da impazzire Anche il suo ultimo post pubblicato poco fa su Instagram sta facendo girare la testa ai suoi follower Vicky Varga indossa un pantaloncino cortissimo questo va su quando accavalla le gambe Più bella e seducente che mai sta ammaliando tutti è meravigliosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti